Giorgia Meloni ha fatto un altro show al Senato, addirittura ha sventurato un fax. Mi pare di capire che la voglia mettere sul piano dei fatti e documenti. Benissimo Presidente Meloni, allora accomodati, c'è posta per te, anzi c'è un faldone per te. Ma sapete chi ha introdotto il MES in Italia? Cioè chi ha portato l'Italia nel MES? Il governo di Berlusconi, nel 2011, è stato il 2011, questo è il documento che lo comprova, carta canta a Giorgia Meloni, di quel governo facevi parte anche tu come ministro della gioventù, oltre alla russa, Fitto, Calderoli. Guardate qui, questo disegno legge viene approvato agosto 2011, introduce il MES in Italia. E attenzione, io allora ero il 2011, ero avvocato, Giorgia Meloni, tu eri lì già al governo a far danni nei confronti dell'Italia. E adesso attribuisci a me la responsabilità di avere a posto una firma. Bugie su bugie, è detto che non siamo passati davanti al Parlamento, abbiamo discusso col Parlamento, abbiamo fatto, avremmo a posto delle firme, io e il ministro degli Esti ho sventurato un fax dell'epoca e per dire che cosa abbiamo fatto il tutto col favore delle tenebre. Giorgia Meloni, non ti permettere di fare un'affermazione del genere, leggi degli atti parlamentari, tu eri membro del Parlamento, che cosa facevi? Dicembre 2020, c'è tutto scritto qui, dibattito parlamentare e risoluzione, parlo sulla riforma del MES, ecco è tutto qui. Giorgia Meloni, tu stai girando di fronte alla questione centrale, adesso si tratta di ratificare o meno il MES e a decidere se sei tu. Giorgia Meloni, sei il Presidente del Consiglio, ormai decidi tutto tu, hai introdotto un premerato di fatto. Allora due sono le cose, o decidi di votare no alla ratifica e sarai pienamente conseguente con tutte le promesse elettorali. Guarda qua, te la ricordi questa? Era manifestazione il 2019 a Bruxelles, ci sei tu, cantavi lino nazionale, non MES, non MES, quindi potrai dare finalmente una gioia ai tuoi elettori. Oppure, al contrario, voterai sia alla ratifica, così fare parte definitivamente del club di Bruxelles, di cui ti senti già orgogliosamente fiera. Però devi decidere. Ah, e vorrei ricordare che io il MES l'ho attivato, nonostante ci fosse una linea pandemica apposita, tutta la roba voleva farcelo attivare, anche forze di maggioranza, ricordo il PD Italia Viva, volevano attivarlo, io col Movimento 5 Stelle abbiamo fatto resistenza. Litigai con la Merkel durante un consiglio straordinario del marzo del 2020, disse, se la vostra risposta per l'Italia è il MES, tenetelo per voi, l'Italia farà da sola. Io ho avuto ragione, perché solo così ho potuto costruire con gli altri colleghi il piano di finanziamento straordinario portato in Italia a 209 miliardi per il PNRR. Grazie a tutti.